Che sono le lezioni? Fammi assicurare la voce Qual è il primo ancora? 2 minuti 2 minuti Ecco, a me ve lo dà il maggiore, sono contento No, non è giusto Ah, ok Non ritorniamo Infatti, se ci sono i nomi, che cazzo In un po' di z Germano Cazzo Aiuto Fajto Fajto Ha Le Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti.